Siamo in compagnia con il dottor Renato Grimaldi, direttore e coordinatore del progetto ITIA di cui è capofila l'ambito territoriale numero 31. Buonasera dottore. Buonasera a tutti, grazie. Come si articola e quali sono le finalità di questo progetto? Il progetto ITIA è un progetto finanziato dalla Regione Campania attraverso l'utilizzo di risorse proprie della Regione Campania, nonché del Fondo Sociale Europeo, che ha visto insieme l'ambito territoriale N31 e altri partner che sono la Cooperativa Sociale Atena ed l'ente di formazione professionale DEAform, con il quale hanno presentato questo intervento che appunto si chiama Interventi di Inclusione e Lotta al Disagio. Quali saranno le attività che verranno realizzate e quali tempi previsti? Il progetto è un progetto lungo che avrà una durata di 36 mesi, prevede tre azioni, l'azione A che è legata soprattutto ai servizi alla persona, di cui l'ente titolare e gestore è rappresentato dalla Cooperativa Atena, abbiamo l'azione B e l'azione C, azione B con un percorso di formazione professionale che è stato frutto di un'analisi del fabbisogno territoriale fatto dall'ambito N31 e dove si è ritenuta necessaria formare questa figura che è appunto rappresentata dall'operatore socio-sanitario. In più, oltre all'intervento di formazione, ci sarà l'acquisizione e la possibilità di acquisire delle competenze nel settore linguistico e quello informatico ed infine l'azione C che invece prevederà dei tirocini formativi attraverso il coinvolgimento di quelle che sono aziende e imprese presenti sul territorio cittadino. Come si farà a garantire la continuità dei servizi visto che l'intervento ha una durata triennale? È come tutti i progetti, hanno un inizio ed hanno una fine, per cui anche il progetto ITIA, avendo una durata di 36 mesi, può manifestare questa criticità. Beh, rimane proprio nelle strategie di ogni ambito territoriale, visto che si utilizzano spesso risorse comunitarie, si fanno spesso progetti comunitari, di dare una continuità con i vari interventi. L'esempio nostro è un esempio che faccio spesso, che è quello di accordi territoriali di genere, progetto che ha avuto termine nel mese di dicembre e che ha previsto una serie diversificata di azioni, di servizi che sono stati erogati a cittadine e cittadine del territorio turrise e che hanno dato continuità e che daremo continuità attraverso anche questo progetto ITIA e quindi garantiamo una prosecuzione delle attività che possono rientrare in una circuitazione ordinaria, perché saranno dei servizi che verranno garantiti per circa 6 anni. Ricordiamo che l'ambito territoriale N31 riguarda esclusivamente il comune di Torre del Greco. L'ambito territoriale N31 è legato solo ed esclusivamente a quelli che sono e quelli che sono i fabbisogni ovviamente di questo territorio, quindi solo ai cittadini del territorio di Torre del Greco. Naturalmente l'inizio di queste attività è stato posticipato causa Covid, secondo lei le istituzioni come hanno gestito e come stanno gestendo questa emergenza sanitaria? Sicuramente il progetto ha avuto un momento di sospensione in virtù del problema Covid, in virtù di questa pandemia che ha visto coinvolto ovviamente anche l'ambito territoriale N31, ma la regione Campania, le direttive regionali nonché quelle comunitarie hanno dato la possibilità di armonizzare quelli che sono gli interventi programmati e che erano stati programmati precedentemente, a quelle che sono le nuove esigenze, le nuove necessità che si sono manifestate a causa di questo problema virologico. Un momento difficile anche per i ragazzi al centro delle polemiche in questi giorni, la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di chiudere le scuole. Lei che cosa ne pensa? Ritengo che sia stato un atto doveroso da parte del Presidente De Luca e voglio ribadire che De Luca sa fare il Presidente, la Zolina deve ancora imparare a fare la Ministra. Torneremo naturalmente ad occuparci di queste tematiche, io saluto e ringrazio per essere stato in nostra compagnia il Dottor Renato Grimaldi, direttore e coordinatore del progetto Buonasera e grazie.